Siamo qui a Venaforo oggi al Museo Winterline che è lo specchio della seconda guerra mondiale qui da noi. Il dottor Paolo Albano oggi a Venaforo, un piacere averla con noi per la presentazione del suo libro. Lei si è occupato di una strage, la strage di Cagliazzo, e ne ha tratto anche un libro importante. Com'è questa sua presenza? Quali sono anche le emozioni in questo contesto? Sì, sono sempre forti le emozioni quando si ricordano questi avvenimenti. Oggi siamo anche per ricordare il bombardamento di Venaforo, innanzitutto quello del febbraio del 1944. Ma partiremo nel tempo un po' più indietro quando purtroppo dopo l'8 settembre iniziò quella occupazione tedesca che ha portato purtroppo tanti e tanti morti fra i civili italiani e purtroppo sono stati dimenticati per troppi anni. E questo è lo scopo del libro, lo scopo di questa giornata di memoria. Ricordare non soltanto ciò che accadde a Venaforo, ma ricordare tutto quello che accadde nell'Italia meridionale e lungo tutta la penisola quando i tedeschi che man mano che risalivano tutto lo stivale purtroppo si abbandonarono ad un'infinità di stragi. Stragi che purtroppo sono state dimenticate e oggi abbiamo tutti noi il dovere di ricordarle. Io con questo libro ho voluto ricostruire una di quelle stragi che poi fortunatamente è stata scoperta nel fine degli anni Ottanta alla procura di Sant'America Capovetere dove io ero sostituto procuratore e ho avuto la soddisfazione dopo 50 anni di vedere i responsabili condannati all'ergastolo. Oggi aspettiamo tanti ragazzi, tanti giovani, tanti studenti perché è bene che soprattutto i giovani conoscano quello che è avvenuto qual è stata la storia di Venaforo, della nostra terra perché solo questa storia ci può insegnare tante cose per l'attualità e per il futuro. È importantissimo quindi trasferire le nuove generazioni nell'era tecnologica che sembra che quasi tutto venga appiattito ritornare un po' indietro con la memoria e far capire che i nostri progenitori hanno sofferto molto nella Seconda Guerra Mondiale. Sono perfettamente d'accordo. I ragazzi di oggi devono conoscere ciò che è avvenuto qual è stato il passato dei loro nonni, dei loro genitori. Purtroppo oggi tutto è, come diceva giustamente lei legato al telefonino, ad internet ci si abitua un po' a tutto perfino al male rappresentato in televisione come se fosse qualcosa di normale invece il male deve essere conosciuto e dobbiamo tutti insieme far sì che quello che accadde nel tragico periodo del 43 non si ripeta mai più. Il procuratore della Repubblica, dottor Paolo Albano, oggi a Venafro presenta il suo straordinario lavoro la strage di Cagliazzo del 13 ottobre 1943. Lo fa all'Istituto Giordano dove siamo. Rivolge quindi lo sguardo alle nuove generazioni per non dimenticare la barbarie della Seconda Guerra Mondiale. Ritengo un evento importante soprattutto un plauso va a chi ha organizzato questo incontro culturale storico e credo pure che questa ultima fatica letteraria del procuratore che tra la miriade di cose che ha da fare quotidianamente testimonia anche un certo tipo di sensibilità una sensibilità storica che mette in evidenza quello che è stato l'eccidio di Cagliazzo da parte dei neonazisti in un momento terribile della storia della nostra umanità e nello stesso tempo evidenzia anche quella che è stata una sentenza storica da parte di un tribunale civile che ha condannato delle persone all'ergastolo per crimini di guerra. Quindi ritengo che questa sensibilità che vuole trasmettere a chi è presente ma soprattutto alle future generazioni ha un significato abbastanza importante senza conoscenza del passato non può esserci futuro. Il testo del procuratore Albano il testo che ripercorre tutto l'iter giudiziario per individuare i colpevoli della strage di Cagliazzo è un testo che i nostri alunni hanno letto su cui hanno militato e hanno portato avanti delle riflessioni ma è un inizio di un percorso che porta gli studenti stessi ma soprattutto noi adulti a riflettere sulle tanti stragi sia quelle del passato ma anche quelle dei nostri giorni ed è l'occasione affinché i ragazzi riflettano su come il male come diceva Anne Arendt è banale la banalità del male e dietro il male c'è sempre l'odio l'odio verso qualcuno o qualcosa ma il male potrebbe essere in ogni momento dentro di noi se non è poi canalizzato questo è il messaggio che noi vogliamo dare ai ragazzi la storia davvero storia maestra di vita la lettura della storia del passato per conoscere il presente ma soprattutto per orientare il futuro i ragazzi oggi sono colpiti continuamente da fiction anche la violenza, il male assume un significato diverso quindi è importante anche per questo una giornata simile i ragazzi purtroppo sono immersi nella violenza perché se noi riflettiamo un attimo sui videogiochi che sono in circolazione che sono nelle mani di bambini non di ragazzi di bambini di 2 chiedo scusa di 3, 4, 5 anni allora noi dobbiamo preoccuparci di essere accanto a loro noi adulti di essere sempre gli adulti referenti e di costruire insieme con loro i valori della vita e non lasciare veicolare questi messaggi senza l'apporto di un adulto L'Istituto Giordano sempre in prima linea per la cultura da esempio per tutta la regione Molise lei che è la dirigente qual è il piano quest'anno? Il piano che noi abbiamo portato avanti quest'anno col collegio dei docenti con tutti i docenti è quello di aprirsi maggiormente al territorio è quello di sottoscrivere tante reti e di sottoscrivere tante iniziative affinché i ragazzi avessero non soltanto i contenuti disciplinari ma anche costruissero insieme col territorio le competenze che sono le competenze chiave della cittadinanza attiva e quindi è importante che tutte le istituzioni collaborino per raggiungere i fini comuni i traguardi comuni della grande educazione